Il giorno di oggi, il 26 aprile, soltanto non era il 2020, era il 1478, pieno rinascimento, l'astro di Lorenzo il Magnifico domina la Signoria Fiorentina. È il giorno di Pasqua e proprio quella mattina Lorenzo sa che dal Palazzo Medici, che è qui a pochi passi, deve arrivare a Santa Maria del Fiore, al Duomo di Firenze, dove lo aspetta la domenica di Pasqua e quindi la celebrazione della Messa. Ma alla mattina il fratello Giuliano, l'amatissimo fratello Giuliano, figlio minore di Lorenzo il Magnifico, sta male, ha un po' di febbre e dice magari verrò più tardi, avviati te per arrivare all'inizio della Messa. È la salvezza della famiglia Medici, perché Lorenzo arriverà come sempre, scortato dagli amici, con grande patos e attenzione e si siederà nelle prime panche del Duomo di Firenze. Ma contemporaneamente Giuliano, che arriva più tardi, non fa in tempo la Messa era iniziata a raggiungere il fratello. Il fatto di essere a posizioni diverse, 4-5 panche diversi l'uno dall'altro, li salverà, perché quella mattina del 26 di aprile del 1478, il gioco delle dinastie ha messo sotto il proprio mirino i Medici. Addirittura c'è anche il Papa in questo complotto, il Papa Sisto IV. Passerà la storia come la congiura dei pazzi. Inaspettatamente Lorenzo e Giuliano a distanza porteranno a far sì che i sicari non sono organizzati, li immaginavano l'uno accanto all'altro e quindi li dovranno colpire in modo distinto, ma naturalmente Giuliano sarà subito accoltellato, è in una posizione un po' dietro, quindi meno protetto e Giuliano di fronte ai colpi di coltello morirà. Quando arrivano a Lorenzo, Lorenzo è in grado un po' di difendersi, addirittura poi il Neri, l'amico, si intrometterà e con la sua difesa morirà lui, ma Lorenzo invece sarà solamente ferito. Ferito da una coltellata di striscio, a quel punto si butta verso la sacristia, si rifugia nella sacristia e questo gli salverà la vita, perché a quel punto i sicari scapperanno, porteranno per le vie di Firenze la notizia della morte dei Medici, ma tutti hanno paura, perché non si sa com'è andata e quando Lorenzo ha, pur ferito, la condizione per poter uscire qui dal Duomo, inserirsi in via Calzaioli, andare verso Palazzo Vecchio, ecco che tutta la città si raccoglierà intorno a lui. Arrivato a Palazzo Vecchio potrà prendere tutte le contromisure, potrà essere durissimo nella riflessione della congiura dei fazzi e prenderà saldamente in mano il potere. Fino alla sua morte, che avverrà nel 1492, però non sarà più lo stesso. In quei 14 anni la persona spensierata, il mecenate che curava le arti, diventerà un abile politico che con molta circospezione cercherà di guidare la città di fronte al pericolo che l'invidia, la gelosia, per il suo potere, il suo ruolo, le sue capacità, possano riprodurre una congiura che lo possa portare fuori dal potere. Lorenzo il Magnifico sarà talmente rattristato, talmente in una situazione di difficoltà per quello che era colui che lo doveva seguire, Giuliano, che è morto in quell'episodio, che la congiura dei fazzi segnerà sempre la sua vita. Oggi, il 26 di aprile, ricordiamo un episodio che avrebbe potuto cambiare Firenze, ma che invece con il mantenimento in vita, semplicemente ferito, di Lorenzo il Magnifico porterà la signoria comunque a essere guidata da quello che viene chiamato lago della bilancia della politica italiana e che lancerà Firenze non solo nelle arti verso il Rinascimento, ma nella politica ad essere una capitale, quella capitale che proprio la sua famiglia sotto Cosimo I porterà ad essere il Gran Ducato di Toscano. Ecco oggi cosa dobbiamo ricordare, il 26 aprile del 2020, l'anniversario della congiura dei fazzi che proprio in Santa Maria del Fiore ebbe i suoi momenti più drammatici.